Un vero e proprio torneo di portata internazionale. La seconda Gardaland Cup è stata un grande successo di pubblico sport e divertimento. Tre giornate di vero calcio, oltre 2000 persone presenti, più di 70 squadre partecipanti provenienti da varie regioni italiane, oltre che dalla Germania e dalla Svizzera. Anche quest'anno sono stati i fantastici campi del centro sportivo Veronello ad ospitare la maggior parte delle sfide dei giovani atleti, sempre accompagnati dal fervido entusiasmo dei genitori. Castelnuovo e Sandrà, le altre sedi di questo importante torneo. Questa manifestazione è veramente molto bella, in un bel posto, un centro sportivo mi sembra molto importante, molta partecipazione, molto divertente, infatti il bimbo si sta divertendo e quindi siamo molto contenti di essere venuti. Sicuramente una bella esperienza, nuova, bella, e mio figlio si sta divertendo, ben organizzata. Io sono arrivata questa mattina, ho trovato una bella organizzazione, un bel posto, tutto bene. Ho un figlio che gioca nel bus 81 ed è del 2000. Hanno vinto, hanno vinto 2-0, sono stati grandissimi. Bellissime tutte le partite, dalla categoria piccoli amici a quella degli allievi, accompagnate per l'occasione dalle coreografie della vera novità di questa seconda edizione, l'intrattenimento delle Blue Halley Gemini, giovani cheerleaders dall'energia davvero esplosiva, che per l'occasione hanno sfoggiato la T-shirt tornei giovanini. Il marchio 2R, ormai affermato nel panorama delle manifestazioni sportive. Il sport è sicuramente un modo sano per stare insieme e per imparare delle buone abitudini, quindi viva lo sport, viva lo spirito di squadra, e viva il calcio, i girlini e i giovanili del mondo! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! L'ottima organizzazione ha reso poi l'esperienza ancora più entusiasmante, senza contare che i ragazzi hanno potuto trascorrere una giornata intera nel fantastico mondo di Gardaland, il parco divertimenti più grande d'Italia. Belle le partite, belle le emozioni, e lei naturalmente ha catechizzato un po' tutti con un bel fuori programma. Cosa ha detto ai suoi giocatori? Che non sono più a Gardaland. Dopo la giornata di ieri, quando ho trascosto a Gardaland, pensavano che erano ancora là. Quindi dopo il grande divertimento, ora con la testa bisogna esserci naturalmente in campo? Certo, sono brutte figure e non si devono fare. Vi è vinto! Avete vinto? Sì! Vi è vinto! E' nuova! E' nuova! E' nuova! Un'esperienza indimenticabile quindi, capace di regalare emozioni e soprattutto un sano divertimento all'aria aperta. Arrivederci all'edizione 2012.